Musica Accade, probabilmente accade in tante case che sia così e in tanti casi. A volte non è la stessa cosa, sicuramente non è la stessa cosa quando questo coming out avviene fuori dalle proprie mura domestiche. Qui a Sky TG 24 pomeriggio, omofobia out, parliamo della giornata mondiale contro l'omofobia, lo facciamo con ospiti bellissimi di cui sono molto fiere. Emiliano Reale intanto, ben arrivato, autore di Sul ciglio del dirupo, dieci anni di storie da raccontare. Storie che riguardano non soltanto l'omosessualità ma riguardano come essere discriminati dalla società per tanti, troppi motivi. Emiliano Reale che il 30 maggio alle ore 18 sarà alla libreria Feltrinelli a Roma in via del Babuino, lo diciamo proprio per presentare questo suo libro. In questi dieci anni che cosa ha raccolto? Sono dieci anni della mia vita di storie che mi sono state regalate, donate da persone che hanno affrontato in un modo o nell'altro delle discriminazioni, delle difficoltà nel sentirsi adeguati in una società che troppo spesso ci chiede di omologarci, ci chiede di dover attenerci a degli stereotipi quando questi stereotipi non sono vicini al nostro sentire. Quindi si parla di omosessualità, si parla di differenze di religione, differenze culturali, si parla di un bambino di colore che poi è diventato un giocatore di pallone che ha giocato in Serie A, che mi ha raccontato la sua esistenza in un quartiere come Torbella Monaca. Quindi affronto tutte quelle categorie che vengono ghettizzate, incasellate in quello che non è l'omologabile o lo stereotipo accettato dalla società. Perché voglio scardinare questa credenza, questa falsa supposizione che se noi siamo fedeli a noi stessi e non ci atteniamo a quello che è il modello da seguire, non possiamo fare la nostra strada e vivere serenamente. Forte e chiaro, Emiliano Reali, lo ripeto, sul ciglio del dirupo. Grazie a tutti.